Vuoi perché la stagione è nel suo pieno? Vuoi perché all'interno ci sono stati dall'inizio dell'anno ad oggi cambiamenti importanti? Certo è che il titolo di questo servizio non può che essere la nuova primavera di Progetta Engineering. Sbocciano fiori, nuovi profumi e con essi vengono nuove idee che il nostro apparato commerciale riesce a raccogliere dal comprensorio, capire quali sono le reali necessità dei nostri clienti e in un certo qual modo anche di anticiparle. Di conseguenza attraverso l'apparato tecnico e di ricerca e sviluppo stiamo esplorando nuovi settori, stiamo esplorando differenti applicazioni e differenti maniere di utilizzare la tecnologia digitale applicata alla ceramica. Nella capacità di Progetta c'è quella di saper realizzare macchine su misura del cliente, ascoltando le sue necessità e adattandoci noi alle sue necessità produttive. Riusciamo a fare digitali per grandi formati o grandissimi formati con grandi affidabilità, semplicità d'uso e anche il controllo remoto e anche tutte le declinazioni 4.0. Quello che stiamo progettando per il futuro è qualcosa di più che va oltre. È ad esempio la declinazione 4.0 sull'ambiente, la capacità di essere ecocompatibili ed ecosostenibili. Questo coinvolge una grande area della nostra ricerca e crediamo di esserci già e di essere pronti per questo domani. Ci troviamo a Maranello, quindi il paragone è doveroso. È come se noi dovessimo qui in Progetta Engineering, progettare tutti gli anni una macchina. Oggi stiamo portando avanti macchine che già esistevano. Prossimo campionato del mondo, che macchine dovremo attenderci? Nel prossimo campionato del mondo bisogna attendersi una macchina che rivoluzioni un po' è il concetto della ceramica. C'è una parte che è la fase di smaltatura che è ancora rimasta molto tradizionale. Credo che sia lì che dobbiamo guardare per attenderci la nuova rivoluzione. Cioè un concetto full digital prevede di partire dalla smaltatura digitale e finire con la finitura digitale passando per tutti i processi intermedi. Progetta Engineering è presente nel mercato italiano da leader. Abbiamo le macchine digitali presso tutti i player, certamente presso i più importanti. E questo ci ha reso anche forti all'estero dove attraverso il gruppo City Barbieri Tarossi riusciamo ad avere una capillarità seconda a nessuno. L'affidabilità delle nostre macchine, la capacità di decorazione, nella capacità di rispondere ai problemi, credo sia il nostro classico. Io credo veramente che la fabbrica non sia fatta di loghi, non sia fatta di banner, non sia fatta di pubblicità. Sia fatta di persone che con il loro impegno nel giorno a giorno rendono la ditta per cui lavorano più grande. Non crediamo che sia un'unica persona che debba avere il controllo, la bacchetta magica per saper indicare qual è la strada maestra. E quindi abbiamo un team di persone deputate a sviluppare le nuove macchine, le nuove tendenze, le nuove tecnologie. Io sono Progetta! Io sono Progetta! Io sono Progetta! Io sono Progetta!